una serata fantastica si vedono completamente le isole dalla lontana corsica al diritto è l'isola d'elma e tutte le altre tipi di lacrippi pagini guardate vado a riprendere fino all'isola d'elba eccola qua immensa mi dispiace che questa è una macchina fotografica una camion da due lire poi comunque farò eccola qua ne prendiamo anche il tricolore spettacolare spettacolare Grazie a tutti.